Tutto pronto per l'inizio della Twin Cup con il Polman Edoardo Mocellari 1.11.7 al suo fianco, Davide Conte 1.11.9 e poi Fabio Starnone a chiudere la prima fila. Una competizione estremamente interessante che sta regalando tantissime incertezze e tanto spettacolo per regalarvi un altro grande sorriso. Il MES è tornato, quarto appuntamento in quel di Varano a tra poco con la Twin Cup. Davide Conte è al Fiere Yamaha ed è nella posizione ottimale per questa sfida di Varano della Twin Cup dove davanti ci sono esponenti di tutti i tipi di moto Twin. Sì, è una categoria fantastica, ci tengo a ribadire che il Moto Estate in Italia è stato l'unico che ha unito tutte le Twin e di questo sono molto contento. È un campionato molto combattuto e arriviamo da una bella vittoria a Magione e quindi ovviamente oggi si punta a replicare, non sarà per niente facile e sarà una bella battaglia, non vedo l'ora. Alberto Gini è uno di quelli che rappresenta lo spirito della Twin, una moto che è l'esaltazione della preparazione dell'idea italiana di saper produrre una moto in casa. Sì, è l'esaltazione della passione per il motociclismo più pura, diciamo che questa categoria dà la possibilità di provare a costruire la propria moto e poterci gareggiare ed è penso la cosa che dà più soddisfazione in assoluto per un appassionato di meccanica e di guida in pista. Edoardo Boccellari è in questa gara Polman ma soprattutto al filiere Aprilia, in parte a te una Yamaha, dietro di te delle moto artigianali, insomma una categoria che coniuga il meglio di quello che è la Twin Cup, il futuro del motociclismo. Sì, allora siamo riusciti a sviluppare bene la moto, il team ha fatto un ottimo lavoro, Mike ha finito praticamente di montarla ieri mattina e abbiamo fatto un lavoro fantastico. Abbiamo avuto qualche problemino con il cambio elettronico che abbiamo risolto subito dopo il primo turno e i ragazzi vanno molto forti, soprattutto Davide che mi è stato alle calcagne fino alla fine e poi sono riuscito a dare uno strappo finale verso gli ultimi minuti della qualifica 2 e adesso ci rimane soltanto che darsi del gas e divertirsi. Un'ultima domanda, tutti hanno paura che queste moto non abbiano abbastanza potenza, ma com'è che il tuo tempo è superiore a tantissime moto mille? Perché la gente si dimentica di guardare anche il peso nelle moto, queste moto qua sono leggere e sono facili da guidare, soprattutto in piste così piccole sono molto più divertenti dei 600 o 4 cilindri che per esperienza mia da dove venivo io, sì van forte però qua dentro sono goffe, quindi queste qui sono, io da ex scettico le promuovo molto. Molto bella la categoria, mi piace. Ezio Rosbock è un altro degli alfieri di saper fare moto e saper costruire qualcosa con un concetto, un'idea? Poco peso, una moto che non costi tanto né a farla né a mantenerla e la potenza e anche la velocità si raggiungono con poco peso, c'è la velocità in curva, tutte quelle cose lì. Un motore bicilindro che spinge sempre senza dover stare lì, avere 2.000 giri di ultimo, 1.000 giri. Ecco questa twin è una categoria che lascia spazio sia ai preparatori sia a chi vuole comprarsi una moto pronto gara senza spendere grandi cifre. Sì, tipo una Priglia, una Yamaha oppure le mie, ma ci sono anche delle moto mie a poche cifre, poche lire diciamo. Ultimate le classiche interviste pre-gara, andiamo sul circuito di Varano, si accendono i semafori, si spengono, via partiti. Buona partenza da partiti, Boccellari se non visto male con Conte alle spalle che cerca forse di sorprendere, ma Boccellari si mette davanti con Starnone e Passanisi che provano in qualche maniera a riavvicinarsi. C'è una buona partenza ancora per quanto c'è nelle Twin Cup con Boccellari che cerca di fare chiaramente la voce da padrone. Lo abbiamo sentito in intervista pre-gara, si è detto particolarmente soddisfatto ed entusiasta della qualifica e era pronto a battagliare chiaramente con chi gli stava vicino, ad esempio con Davide Conte. Intanto Ezio Rosbock, inquadrato, partiva dall'ottava piazza in anella, un paio di sorpassi perché deve assolutamente riprendersi dopo una falsa partenza. È dato un dritto, Boccellari va davanti al suo fianco Starnone. E poi Conte, queste sono le posizioni con una situazione abbastanza interessante per quanto riguarda le Twin Cup, una gara che va al meglio degli undici giri. Abbiamo un po' parlato con i piloti, se avessero paura della performanza delle gomme, ma non c'era questa preoccupazione, un clima anche abbastanza importante perché c'era stata una forte pioggia il giorno prima, il sabato, ma la domenica è uscito il sole ed è uscito il sole da Twin Cup con Boccellari che cerca subito di fare la voce grossa, con Conte che si è preso di nuovo la seconda posizione, la sua seconda posizione e adesso cerca probabilmente di andare, di serragliare Boccellari lì in quell'angolino per provare a scavalcarlo e per provare a dire la sua. Mamma mia, Conte si è avvicinato molto a Boccellari in questa fase di gara. Chiaramente siamo dopo un giro, siamo quasi nemmeno a un giro e mezzo, affrontano le varie curve con Starnone, con Gini, con Carone e Passanisi che stanno cercando di salire su. E allora eccolo qui, inquadrato Davide Conte con un on-board che cerca di avvicinarsi tanto a Boccellari, anche diversa l'interpretazione delle curve da parte di entrambi i piloti che hanno uno stile di guida particolarmente differente, ma che staranno e che battaglieranno tantissimo con Conte vicinissimo a Boccellari in precedenza. Gini che sta cercando di risalire la china, sta cercando di avvicinarsi agli altri piloti e Conte che adesso mette sotto a sedio Boccellari, vediamo se prova a scavalcarlo per cercare di dare già un primo strappo. Potrebbe essere un'idea quella da parte di Davide Conte che si è messo davanti a Edoardo Boccellari, ma Boccellari non ci sta, si riprende la posizione, lo rimette alle spalle, sono praticamente appaiati a 2.10, mi passa il secondo giro, se li fate così ragazzi vado veramente in escandescenza perché state dando un grande spettacolo. Boccellari Conte e alle spalle un po' tutti quanti gli altri piloti con i distacchi che iniziano a ampliarsi tra i primi due e gli altri piloti che inseguono e potrebbe esserci anche una situazione interessante con Starnone che si è messo in terza e che non vuole mollarla per nulla al mondo, ma attenzione perché si stanno per avvicinare anche Passanisi che partiva dalla sesta posizione e che in realtà si è messo in una posizione migliore per provare ad avvicinarsi con Boccellari sempre davanti, con Davide Conte con il quale abbiamo parlato di Twin Cup prima della gara, Conte lo appaia Boccellari, quasi lo guarda, si sfidano i due, Conte passa Boccellari, Conte davanti ad Edoardo Boccellari forse Boccellari è quasi come se lo avesse, non gli avesse intimato di passarlo ma è quasi come se volesse cercare di capire quale fosse la volontà da parte di Davide Conte e adesso bisogna capire se Conte ne ha per scappare e adesso dobbiamo capire se Boccellari gli resta alle spalle, intanto inquadrato Bozzoni che sta cercando di salire su con Gini alle spalle che cerca di rinvenire, ma lì davanti Conte, Boccellari adesso, Starnone, Passanisi alle spalle, quella sfida tra Bozzoni e Gini che potrebbe diventare incandescente tra poco, altro passaggio, altra cosa interessante alla quale stiamo assistendo mamma mia, ma non vedo più, attenzione, non vedo più Starnone, Passanisi terzo, non vedo più Starnone problemi per Starnone, che ho fatto un dritto in curva 1, ho accusato di problemi, Starnone sale, scusatemi problemi per Starnone, sale Passanisi, Gini alle spalle di Bozzoni, adesso davvero sta succedendo di tutto assolutamente incandescente la situazione in Twin Cup con Conte e Boccellari, con Passanisi da solo terzo con Bozzoni inquadrato alle spalle, Gini che sta cercando di risalire e Carone che dovrà anche lui per forza di cose dire la sua, fare un po' una gara interessante, Conte comanda in questo momento con Boccellari alle spalle che sta cercando di tessere un po' la tela del gatto col topo, cioè lo guarda, lo sfida intanto Alberto Gini che cerca di risalire anche lui la china, eccolo qui Davide Conte con Boccellari arrivano chiaramente dai box i distacchi che sono praticamente immutati tra i primi due davanti e anche dietro Bozzoni e Gini, Carone, sta succedendo un po' di tutto lì alle spalle con un tentativo di sorpasso da parte di Gini che effettivamente avviene su Bozzoni, allora Gini prova a scappare, prova ad andare ad inseguire a questo punto Passanisi, si sta formando un magnifico trio lì dietro, Gini, Bozzoni e Carone a questo punto pronti ad insidiarsi l'uno con l'altro per una posizione importante, Conte davanti con Boccellari che si stanno continuando a fare dei dispettucci, adesso Boccellari si è messo quieto quieto, manzo manzo, zitto zitto alle spalle, sta studiando Davide Conte lo sta facendo in maniera estremamente interessante ma qualcosina Conte in alcune parti del circuito lo guadagna, allora occhio perché può succedere di tutto chiaramente in questa gara, Gini inquadrato mentre sta tra poco per transitare per un altro passaggio, Alberto Gini si è messo alle spalle Bozzoni, cerca di inseguire, Passanisi, cosa estremamente complicata però non è una cosa così facile da potersi verificare questa e Conte Boccellari, Passanisi ancora si stanno adesso le discrepanze a livello numerico, si stanno iniziando non più da sottigliare ma da allargare, con Conte che disegna delle traiettorie interessanti, con Boccellari che lo sta inseguendo ma che non lo sta mollando e mi sembra che possa averne davvero per potergli star dietro per poter competere con lui, con Passanisi, dietro intanto uno stacco, uno strappo da parte di Bozzoni che sta cercando in qualche maniera di tenere e di arrivare agli altri con Gini anche inquadrato lì davanti, eccolo qua Alberto Gini che sta cercando di risalire la china, lo sta cercando di fare con tutte le sue forze e sta cercando di trascinarsi con sé alle spalle anche gli altri piloti, eccolo qui è proprio lui che comanda questo terzetto Gini, poi c'è Bozzoni che è un po' mollato alle spalle con Carone che sta cercando di risalire, con Davide Conte eccolo qui inquadrato che deve cercare adesso di dare uno strappo per provare ad andarsene via, su Edoardo Boccellari è quella la grande sfida mentre le telecamere chiaramente indugiano anche su questo terzetto che sta rendendo veramente estremamente vitale la gara qui alle spalle con Carone, con Gini, con Bozzoni, con Bocellari che si è riavvicinato a Conte, Conte scavalcato da Bocellari che se ne va via, un errore in curva 1 da parte di Davide Conte che proprio come se avesse mollato, non so se lo ha mollato la moto ma Bocellari sta scappando e allora cade Conte, clamoroso, cade Davide Conte dopo a essere stato a lungo in testa, a aver scavalcato Bocellari purtroppo la competizione perde uno dei suoi ispiranti massimi, Davide Conte e allora Edoardo Boccellari adesso può scappare ha già creato un grande gap tra sé e gli altri, Edo Boccellari vola in testa alla competizione lo fa maramaldeggiando sul resto del gruppo, adesso qua è sfida aperta totale anche perché Carone ha scavalcato Gini che hanno scavalcato entrambi i Bozzoni già da diverso tempo, Carone Gini con Passanisi secondo, Outstarnone, l'abbiamo visto un problema al quarto giro ma adesso è clamoroso, prima è lungo di Conte in curva 1, poi la caduta da parte di Davide Conte e con Edoardo Boccellari che adesso davvero può andare indisturbato a prendersi una vittoria importantissima, pesantissima, strategicamente in Twin Cup, Passanisi resta secondo, è sfida totale, bagarre totale per la terza tra Carone e Gini con Bozzoni alle spalle, purtroppo la caduta di Conte ci priva di uno dei protagonisti principali anche perché stavano dando vita ad un duello clamoroso in Twin Cup e entrambi i piloti, Edoardo Boccellari è stato davvero davvero bravo a rimanere concentrato, a rimanere alle spalle di Conte, a fargli sentire perché no il fiato sul collo, a dargli quel grattacapo, quella preoccupazione tipica da parte di Edoardo Boccellari, un pilota fumoso, un pilota fumantino, lo sappiamo, l'abbiamo conosciuto anche al di fuori del circuito, simpaticissimo e bravissimo, in questo caso a prendersi di forza, di peso, la prima posizione, peccato per un Davide Conte, anche lui estremamente pacato, estremamente importante anche nel circus, ma la caduta in questo caso arride ad Edoardo Boccellari e adesso bisogna capire la lotta per il terzo posto perché Domenico Passanisi mi sembra che sia abbastanza tranquillo da questo punto di vista in seconda posizione e che abbia messo in cassaforte quelli che sarebbero dei punti importantissimi per lui, ma anche una rivalza da un punto di vista proprio come pilota e adesso è sfida aperta tra Gini e Carone, con Carone davanti, con Gini che non molle, che non desiste, con Bozzonica praticamente mollato di schianto, rispetto alla prima fila c'è Edoardo Boccellari davanti, caduto Conte, problemi per Starnone, questa è chiaramente la Twin Cup, questo è il mess, può succedere di tutto in questa competizione, Ezio Rosbock inquadrato, partiva dall'ottava e cercato di risalire e con qualche ritiro che c'è stato lì davanti sicuramente è riuscito a riacquisire lo status più importante rispetto alla partenza che aveva avuto, una falsa partenza, l'avevamo visto impelagato in posizioni che non gli competevano, intanto chiaramente qui un'inquadratura di come disegna le curve Boccellari che ha mollato di schianto e sta andando decisamente più piano, rispetto agli altri piloti in pilizza anche perché chiaramente non ha quell'ardire di dover continuare di seguire Conte, ma sta chiaramente tenendosi stretta a una posizione, la prima importantissima per lui, in Twin Cup, una gara meglio degli 11 giri, lo ricordiamo, ha altro passaggio da parte di Edo Boccellari che adesso si sta prestando e sta vedendo sempre più vicino il traguardo, Boccellari, Passanisi, Carone e Gini in questo momento si alternano lì davanti per le posizioni che contano, soprattutto per quanto riguarda la terza posizione, soprattutto per quanto riguarda un piazzamento che sarebbe estremamente importante anche per il carattere dei piloti che devono chiaramente continuare a dare il meglio di sé, guardatele lì, Carone e Gini con Carone che guadagna qualche decimo importante su Gini per tenerlo alle spalle, con Boccellari che continua a disegnare in maniera elegante, in maniera regale, curve che tra poco lo avvicineranno a quella che è la vittoria di competizione per quanto riguarda la Twin Cup, peccato perché abbiamo perso un grande, un grandissimo concorrente, quale Davide Conte se le sarebbero date fino alla fine, si sarebbero divertiti tantissimo perché poi è questo lo spirito del MES, quello di rimanere sempre nei ranghi, divertendosi, dando spettacolo con Super Edo Boccellari che disegna praticamente le ultime curve, che si avvicina alla vittoria finale, intanto un'inquadratura anche a Domenico Passanisi che è stato protagonista interessante che probabilmente arriverà secondo con l'ultimo passaggio che è questo che vede Boccellari davanti, abbiamo visto Passanisi appunto con qualche curva, sta andando più forte ad esempio in questo caso di Boccellari, ma chiaramente Boccellari ha un distacco ragguardevole dalla compagnia cantante e può permettersi anche il lusso di andare, perché no, un pochino più piano rispetto ai suoi amici che si trovano alle spalle con un Carone Ungini che adesso se le stanno davvero dando di santa ragione, stanno continuando e proseguendo con il loro, la loro interessantissima situazione, Rosboc intanto anche lui cerca di rientrare in maniera particolarmente interessante, disegnando anche lui le proprie curve, disegnando anche lui il proprio modo di guidare, intanto ci sono i passaggi di tutti quanti gli altri piloti, in attesa che passi Edoardo Boccellari che possa andare a concludere quella che è stata una cavalcata, una marcia per lui trionfale, non dall'inizio però, perché Conte fino a un certo punto gli ha dato davvero parecchi grattacabi, perché Conte è stato un grande nemico chiaramente, tra virgolette per Edoardo Boccellari che però adesso se la sta davvero prendendo con calma e il tributo è molto importante per lui, per una vittoria importante, vince super, Edo Boccellari esulta chiaramente, guardatelo, mani in alto per lui, è una vittoria di peso, una vittoria importantissima, secondo Domenico Passanisi che arriva e terzo alla fine la spunta Luca Carone su Alberto Gini, termina qui una Twin Cup meravigliosa con la vittoria di Edo Boccellari trionfante, secondo Domenico Passanisi, terzo Luca Carone, quarto Alberto Gini, ricordiamo purtroppo i ritiri da parte di Fabio Starnone prima ma soprattutto di Davide Conte quando comandava un lungo in curva 1 e poi un problema sicuramente per lui che è caduto successivamente e ha dato in là alla vittoria di Edoardo Boccellari che se l'è presa di forza con pieno merito, vince Edoardo Boccellari la Twin Cup, quarto appuntamento del MES in quel di Varano, secondo super Domenico Passanisi, poco inquadrato ma chiaramente la posizione non è quasi mai stata messa in dubbio poco prima della super sfida Boccellari-Conte, terzo Carone, quarto Gini, ritirati Starnone e Conte, è tutto per quanto riguarda il MES, per quanto riguarda la Twin Cup, il quarto appuntamento noi a questo punto ci vediamo in quel di Cremona per il quinto appuntamento e finale per quanto riguarda i MES, grazie, ciao!